Le acque termali sono un dono della natura, che offre benefici per il corpo e la mente. Carissimi, sappiamo che molti di voi ci seguono senza essere iscritti, ma vi chiediamo di fare un gesto semplice che per noi significa tanto. Cliccate sul pulsante iscriviti e unitevi alla nostra grande famiglia online. Non ve ne pentirete! Queste sorgenti di acqua calda, ricche di minerali, sono state apprezzate sin dall'antichità. Per le loro proprietà terapeutiche. Le acque termali possono alleviare i dolori muscolari e articolari, migliorare la circolazione sanguigna e favorire il rilassamento. Molte persone trovano sollievo dai disturbi della pelle come eczemi e psoriasi, grazie alle proprietà curative delle acque termali. Inoltre, queste sorgenti termali sono spesso circondate da paesaggi pittoreschi e offrono un'esperienza di relax e rigenerazione. Non sorprende che le acque termali siano diventate destinazioni turistiche popolari in tutto il mondo, offrendo una combinazione di benessere e piacere. Se ti piacciono questi video e vuoi sostenere il canale, iscriviti ed attiva la campanella per non perderti le prossime novità.